benvenuti a questo nuovo video sul canale youtube richi g radio show tv iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati campanellina commentate vi aspetto c'è la rubrica parlo di radio e podcast oggi e nel mondo della radio dei podcast è molto importante ascoltarsi bene quando si è al microfono io sto usando un pod mic classico microfono da podcast microfono direzionale a differenza di quelli a condensatore che prendono uno spazio più ampio che si può allontanare di più che li vedete di solito nelle radio però questo è perfetto per il podcast ma non è di microfoni che voglio parlare oggi ma di cuffie quindi l'ascoltarsi mentre si registra ossia in live radio o nella produzione di podcast è importante il preascolto l'ascolto e anche la post produzione allora prima avevo queste cuffie qui che voi avrete sicuramente visto nei miei video che sono queste blu come il colore di radio sp 30 dove vai in onda richi g radio show eccole qua le beats tac chi mi ha regalato dj marco a caso che saluto queste vanno benissimo e saranno le cuffie dell'ospite o di uno dei due ospiti al nostro bancone qui dello studio taverna ma è arrivato un nuovo acquisto ovvero vediamo l'unboxing ovvero vediamo l'unboxing ovvero vediamo l'unboxing ovvero vediamo la domanda Eccole qui, in tutta la sua bellezza Voilà, le faccio vedere bene Così, così, così Queste sono un modello di cuffie che si chiama AKG È la marca, K92 nere, non mi hanno pagato per dirlo, non è una promotion Perché mi piacevano a me, vedete, hanno l'interno bello ampio Monitoraggio, sono cuffie da monitoraggio, anche per i musicisti Con retro chiuso, molto leggera, anche se tu le vedi così, sembrano pesanti Dici quanto cacchio pesano queste cuffie, no, sono leggerissime La stessa leggerezza di quelle che vi ho fatto vedere prima Ad alte prestazioni Costano 55 euro Ma ci sono varie fasce di prezzo Queste sono le K92 nere, le trovate anche su Amazon In stile un po' retro, un po' di design Vedete? Qua hanno questo archetto aperto così Poi sono rifinite con tutti i loghini E si sentono veramente da Dio Voi non potete ascoltare ma mi sto ascoltando con un suono in alta qualità Ecco queste sono le cuffie, tra l'altro le utilizzano in molti programmi radiofonici Famosi come nel programma di Radio 24 La zanzara con lui Cruciani Qua ci vorrebbe qualche parolaccia Le usa anche lui e i suoi ospiti quando arrivano lì a chiacchierare con lui di tutti i temi Quindi il parlo di radio e podcast oggi era dedicato alle cuffie da monitoraggio, d'ascolto Ma si possono utilizzare in diverse circostanze Beh queste magari da DJ, da mixing in console con la pista davanti Non sono adattissime perché spesso i DJ fanno questa cosa di scoprire il padiglione E diciamo che il movimento dell'archetto si potrebbe rovinare Non è il più adatto Però, 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 però Non si sa mai È tutto per il video di oggi Parlo di radio e podcast Al prossimo appuntamento E ce ne saranno qui all'interno di Rikiji Radio Show TV Il programma in podcast torna a settembre Se state guardando questo video adesso in estate Se lo state vedendo in un altro momento Iscrivetevi e restate aggiornati Ciao ciao C'è anche un cavo molto lungo Flessibile Comodo Morbido E poi l'adattatore jack Per gli ingressi grossi o per gli ingressi più piccoli Bello così, guarda Dorato Eh? Chica finale Ciao